Buongiorno, allora oggi ho deciso che voglio iniziare a fare questo esperimento e fare uno study together in cui mi filmo e non metto niente, cioè non metto editing, cose strane, niente di niente e studieremo praticamente un pochettino insieme. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. . 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